F, in seconda fila, Noringa Jim, Obama, Di Cielo, Larice Jet, Manolet, Nia Garaluzzo, L'Oscopo, Odone, MP. La macchina entra nella retta delle tribune. Prende velocità. Stacco. Problemi per Odone, MP, che resta lontano di Galoppo. Il primo colpo di scena, Luster SF si avvantaggia e scavalca Noodles BF dopo un scelto. Numero 16, Odone, MP, squalificato. In 12,8. Sbagliato. Oroscopo nelle retrovie. Numero 15, Oroscopo, squalificato. Qualificato, Oroscopo. E questo è il secondo colpo di scena. Oroscopo e Odone fuori gioco nei primi 400 metri. Cambia completamente il volto della corsa. E intanto... Davanti Luster SF con in scia Noodles BF, l'attacco di Oms de Greppi che passa dopo 700. Omsk, Luster, quindi Noodles BF. In risalita esterna, Lido d'Alfa si porta presso Niagara Lux. Quarto allo steccato è Loreto de Santana. Terza pariglia esterna per Manolete. In bocco della curva conclusiva con Omsk in vantaggio. Il primo chilometro per Omsk de Greppi. In 1,14. Scarso all'argo Lido d'Alfa. Sulle tracce dei primi due. E Niagara Lux in calo. Luster SF, Lido d'Alfa attacca Omsk. De Greppi alterni della piegata. Lido d'Alfa si profila in vantaggio su Omsk. L'attacco ora, anzi, l'inseguimento di Niagara Lux. Poi Manolete, poi Larice Jet. Lido in vantaggio. Niagara che si avventa su Lido d'Alfa e passa. È inseguita da Manolete. Niagara alla corda. Manolete che attacca. Niagara non si prende. Viene a vincere davanti a Manolete. Poi One Cool Crystal. E infine Obama di cielo. Loretto di Santana. Lido d'Alfa per il quarto. Nelita, scusate, Niagara Lux che viene a vincere facile con Edoardo Moni. E poi al secondo posto Manolete. Quattordici, tredici. Il terzo per il numero quattro. One Cool Crystal. Quattordici, tredici, quattro. Il quarto per il dieci. Di Obama di cielo. E quinto potrebbe essere ancora Lido. Comunque in foto con Noringa Jim. Nel mezzo c'è anche Navajovi. Qui il quinto posto è un po' un problema. Il quinto posto è un po' dura. La combinazione Tris. Ecco, rivediamo ancora una volta l'arrivo che ci può aiutare. Il quattordici di Niagara Lux al primo. Il tredici di Manolete al secondo. Il dieci di Obama di cielo al terzo. Il quattro, scusate, di One Cool Crystal al terzo. Quattordici, tredici, quattro. È la combinazione Tris. Quattordici, tredici, quattro. Il quartè, quattordici, tredici, quattro, dieci. E per il quinte, se la vedranno, Lido d'Alfa e Noringa Jim. E francamente, così da queste inquadrature sembrerebbe ancora Lido. Però, attenzione, perché la telecamera non è in asse. Perché uno è alla corda e l'altro è a centro pista. Quindi, i distacchi sono straminimi. E quindi, è meglio aspettare il verdetto del giudice d'arrivo. Che consulterà evidentemente il photo finish. Per quanto riguarda il totale. Io ho 1,57, scarso. Quindi, direi, 13, scarso, la media al chilometro. Il training del Team Moni, la guida di Eddie Moni, i colori del...